Leo, mi racconti una storia? Del topo dopo? Ma, quello che vuoi tu? Ti racconto la storia di... Raccontami la storia del topo dopo! Il topo dopo era affranto. Cosa vuol dire? Dino, vuoi che ti racconto la storia del topo dopo o no? Sì, certo! Il topo dopo era affranto per la sua sventura e decise di andare da un dottore. Andò dal dottore Anguria e gli raccontò la sua storia. Purtroppo... Arrivò dopo! Esatto! Si accorse che aveva parlato tutto il tempo con una Vugambil. Che però gli diede dei presevoli consigli.